Sicuramente o prima o dopo vi sarete imbattuti nella necessità di utilizzare dei package esterni alla vostra applicazione. Sfido chiunque a dire che non l'ha mai fatto perché credo che sia impossibile. Quello che voglio farvi vedere, per chi già non sapesse come si fa, è quali sono le metodologie di creazione di un package per l'Aravel. Questa pratica può essere utile perché magari avete delle parti di codice che avete scritto voi e che continuerete a usare voi, ma magari invece di copiarle ogni volta da un progetto all'altro, estraete tutta questa parte, create un package e lo riutilizzate. E sicuramente se è stato utile più volte a voi è molto probabile che sarà anche utile ad altri in futuro. Le fasi di sviluppo di un package l'Aravel sono all'incirca queste sei, che adesso andremo ad analizzare nel dettaglio. Per prima cosa dobbiamo creare una struttura a cartelle del package. Non esiste una regola, ma in genere si segue una convenzione, che può essere anche una convenzione vostra personale, che mantenete costante, oppure una più condivisa a livello di comunità. La convenzione che seguo più di solito, che è anche quella che vedo maggiormente utilizzata su GitHub, è questa di qua. Abbiamo un primo livello di cartelle, che è composto dal nome del vostro vendor, che può essere la vostra azienda, il vostro nome su GitHub o quello che volete, seguito da un'altra cartella interna che è col nome del package. Dopodiché, una serie di file che non sono obbligatori, ma che comunque è buona norma inserire, che sono il change log markdown, in cui annotate tutte le modifiche che nel corso del tempo andate operando il vostro package, quindi aggiunta di funzionalità, modifiche, rimozioni, eccetera. I file di composer, quindi composer.json e composer.lock, per definire una serie di informazioni riguardo al package e riguardo alle dipendenze, quindi quali sono i pacchetti da cui il vostro package dipende, che idealmente dovrebbe essere comunque il meno possibile. Un file di licenza, qualora sia necessario, in cui inserite i dettagli riguardo la licenza di utilizzo del vostro package e infine un file redmi, sempre markdown, dove andate a descrivere cosa fa il vostro pacchetto e l'utilizzo, quantomeno in linee generali, poi magari farete delle pagine di documentazione specifiche. Per quanto riguarda il codice, lo inseriamo generalmente dentro una cartella source e lo organizziamo in questo modo. Avremo sicuramente almeno un service provider, che adesso vedremo come va fatto. delle façade probabilmente non è indispensabile e poi una serie di altre classi di comodo che utilizzerete come quella che in questo momento ho definito come Laravel Day. Tutti gli altri file seguiranno più o meno la struttura di un'applicazione Laravel. Quindi avremo una cartella config con la configurazione specifica del vostro package, una cartella database, una resources organizzata esattamente come un'applicazione Laravel e soprattutto anche una cartella dei test. Perché, come è stato detto anche in precedenza, per vedere quanto mi posso affidare a un package prima di mettermi alle sue dipendenze, devo fare diverse valutazioni, fra cui quanto è stabile, quanto è supportato, quanto il codice che è stato scritto è stato scritto in modo corretto, quindi anche il fatto dei test va preso in considerazione. Questo per quanto riguarda la struttura dei file. Poi dobbiamo creare il file composer, quindi in cui definiamo una serie di metadati del nostro package e le dipendenze. E inoltre una parte importante che sono i punti di contatto con l'applicazione Laravel. Allora, un file composer, penso che conosciate più o meno la sintassi, è un file JSON con una serie di parti. Una parte iniziale in cui abbiamo il nome del package, che generalmente è la composizione di vendor name e package name, una descrizione di massima del package, un array di autori, che potete essere soltanto voi o il vostro team di sviluppo, dopodiché le dipendenze, che sono dipendenze di produzione e dipendenze di sviluppo. Generalmente, per un package Laravel, sicuramente avremmo in produzione la dipendenza col file illuminate support, che dà tutte le funzionalità principali di Laravel. Per quanto riguarda invece lo sviluppo, vi consiglio di utilizzare questi quattro package, che sono PHP unit per sviluppare test, mockery, che abbiamo visto poco fa, è per sviluppare mockup durante test, orchestra test bench, che è indispensabile per fare test come se foste dentro un'applicazione Laravel, perché altrimenti non avreste a disposizione tutte le funzionalità che abbiamo visto precedentemente sulle essenzioni, sull'invocazione di chiamate HTTP, eccetera. E infine PHP unit per tprint, che semplicemente vi fa una formattazione più graziosa, più carina, dell'output del test. Dopodiché abbiamo una sezione di autoload, in cui mappiamo i namespace sui file del nostro package, e anche qui la convenzione di mappare un namespace con vendor name, slash slash package name, sulla directory source, che abbiamo precedentemente definito. La stessa cosa anche per la parte di sviluppo. Infine, una parte molto importante, e che è stata introdotta a partire dalla versione 5.5 di Laravel, se non sbaglio, è la definizione dei servizi e delle facade utilizzate dall'autodiscovery di Laravel. In sostanza abbiamo una sezione extra con il campo Laravel, in cui definiamo un array di service provider che punteranno a una classe specifica del nostro package. Ora vedremo come si fanno. È un oggetto aliasis in cui definiamo come vogliamo rendere disponibile sulla nostra applicazione Laravel delle facade che andiamo a definire. Quindi questa è la struttura di massima di un file composer per un package Laravel. La parte probabilmente più interessante è andare a definire i punti di contatto del package con l'applicazione, che poi di fatto è tramite quello che noi andiamo a estendere le funzionalità del framework, perché altrimenti sarebbe un package PHP normalissimo. Allora, i service provider sono quelli che appunto permettono di integrare l'applicazione con delle funzionalità di espansione, che possono essere configurazioni, possono essere viste, rotte, comandi, controller, un po' tutto quello che conosciamo. Come vengono definiti i service provider? Non sono altro che una classe che estende la classe base service provider e in cui dobbiamo andare a ridefinire fondamentalmente due metodi. Il metodo register è il metodo boot. Tradizionalmente si fa un po' confusione su dove vanno messe le cose, se ne registrano nel boot. C'è chiarezza se cerchiamo bene, però forse è meglio andarlo a ribadire. La funzione register viene invocata all'inizio della fase di avvio dell'applicazione e in questa fase ancora i vari service provider non è detto che siano stati caricati all'interno dell'applicazione. Quindi io non posso fare affidamento su nessuna funzionalità di nessun service provider. Quindi quello che si fa tipicamente in questa fase è semplicemente dichiarare quali sono i servizi del nostro package. Nella fase di boot invece abbiamo la garanzia che tutti i service provider sono stati caricati e quindi posso utilizzare le loro funzionalità per fare cose che servono al mio codice. Infatti funzione register generalmente facciamo due cose estendiamo la configurazione dell'applicazione tramite il metodo merge.config.from con due parametri il percorso del nostro file di configurazione del package e il nome che vogliamo che abbia la nostra configurazione all'interno dell'applicazione. Dopodiché andiamo a definire i service provider. quindi andando in questo modo con per esempio disapp singleton andiamo a definire sulla chiave in questo caso package name cosa vogliamo che ritorni il service container quando cerchiamo la risoluzione di questa chiave. In questo modo abbiamo dichiarato il nostro servizio. Nella funzione boot invece andremo a integrare tutte le altre cose quindi traduzioni viste migrazioni rotte tutto quello che ci può servire sempre alla stessa maniera prima il percorso completo del file poi la chiave con cui vogliamo che sia disponibile all'interno dell'applicazione. Inoltre nel caso in cui l'applicazione venga avviata da console quindi tipicamente perché abbiamo lanciato un comando php artisan e qualcos'altro possiamo eseguire una fase aggiuntiva di booting che viene fatta soltanto nel caso in cui l'applicazione viene avviata da console quindi in questo caso se troviamo che l'applicazione è running in console chiamiamo un ulteriore metodo boot for console che in realtà non è un metodo standard della classe service provider ma è un metodo che definiamo noi e qui dentro cosa andremo a fare? tutte le operazioni di publishing delle risorse che sicuramente già avrete utilizzato in qualche modo per esempio un package che state utilizzando di suo mette a disposizione una configurazione ma tipicamente voi volete personalizzare la configurazione e allora cosa fate? php artisan vendor publish magari col nome del service provider che volete pubblicare questi file di configurazione vengono copiati all'interno della vostra applicazione voi li potete modificare questa operazione la rendete possibile esattamente chiamando il metodo publishes quindi voi dite che quando viene richiesta la pubblicazione della risorsa per esempio in questo caso nella prima invocazione pubblichiamo il file di configurazione all'interno della cartella di configurazione dell'applicazione che posso richiamare tramite il metodo config path inoltre posso anche assegnare un tag a una risorsa pubblicata che mi permette in questo modo di fare una pubblicazione selettiva delle risorse perché mettiamo caso che io non voglio pubblicare tutto quindi configurazione viste assets traduzioni ma sono soltanto una parte di risorse allora assegno le tag per esempio nel primo caso per la configurazione assegno il tag package name dot config per tutti gli altri package name dot views quindi se voglio soltanto pubblicare la configurazione lancerò il comando php artisan vendor publish meno meno tag uguale package name dot config e quindi pubblicare soltanto una parte ultimo elemento in fondo dichiaro un array di comandi che metto a disposizione dell'applicazione in questo caso un array è vuoto ma se il mio package comprende dei comandi li vado a dichiarare qui dentro in questo array oltre al service provider possiamo anche definire delle facade facade di battute da molti nel loro utilizzo si possono fare vediamo come si fanno anche qui estendiamo la classe base facade e dobbiamo ridefinire un unico metodo che è get facade accessor che ritornerà semplicemente una stringa che altro non è che la chiave tramite la quale vogliamo recuperare un servizio dal service container quindi poco fa quando abbiamo dichiarato il singleton sul service provider l'abbiamo mappato sulla chiave package name se io voglio che quella facade venga mappata su questo servizio devo ritornare esattamente la stringa package name che è quello che abbiamo esattamente fatto qua quindi in questo modo tutte le volte che scriverò all'interno della mia applicazione che ospita il package your facade due punti due punti un nome di un metodo è come se chiamassi il nome del metodo del servizio che mappa questa facade tutte le altre classi vengono implementate in modo standard come normali classi di PHP e le possiamo istanziare sia dal nostro package che dalla nostra applicazione che ospita il package quindi tutte le altre classi le scriviamo come di solito anzi abbiamo imparato oggi che dobbiamo svilupparle col tdd come al solito abbiamo finito il nostro package come facciamo a renderlo disponibile a tutti gli altri o anche a noi stessi dobbiamo intanto pubblicarlo su un repository remoto in realtà anche locale vedremo dopo come tipicamente repository sarà di tipo git facilmente git hub non entro nel dettaglio di come di come lavorare con git perché questo richiederebbe un corso a sé ma le operazioni di base da fare dopo aver creato i repository su github inizializzare con git init aggiungere tutti i file del nostro package all'interno del repository fare il commit quindi fare una fotografia di quello che è il nostro progetto in quel dato momento aggiungiamo il repository remoto tramite git remote ad origin e l'url del nostro repository dopodiché con git push andiamo a fare la copia del nostro commit su repository remoto se vogliamo gestire le versioni del package questa cosa la possiamo fare mediante le funzionalità di tagging di git quindi voglio pubblicare la versione 1.0 del nostro package assegnerò al repository il tag 1.0 con il comando git tag 1.0 dopodiché ne farò il push come faccio con un commit normale e mi troverò il mio package con la versione 1.0 che poi questa versione verrà utilizzata da composer ora vedremo come ultima fase ho il package su git potrebbe essere sufficiente ma io voglio poterlo utilizzare mediante composer quindi un ulteriore passo è la pubblicazione del package su packagist cosa si deve fare intanto vi registrate su packagist questo lo dovete fare necessariamente dopodiché andate su submit e vi si presenterà questa schermata quello che dovete fare è soltanto inserire l'url del vostro repository git in realtà può essere anche svn o qualcos'altro premete check il repository verrà tirato giù da packagist che pubblicherà il vostro package che da quel momento in poi potrà essere utilizzato mediante composer attenzione però che questo è sufficiente ma non è abbastanza perché qualunque ulteriore modifica che fate al vostro package quindi fate nuove versioni non verrà automaticamente recepito da packagist ma andrà fatto un ulteriore passo che è quello di registrare un webhook quindi un sistema di notifica che vi permetterà di ogni volta che fate un push sul repository git far sì che questo transiti in automatico su packagist è molto semplice da realizzare passate sul repository git andate sui settings sezione webhooks aggiungete un webhook e dovete inserire nel campo payload url questo url che è un endpoint di packagist che è quello mediante il quale git può avvisare packagist che è stato fatto un nuovo push tutto il resto sono opzioni in più che non ci servono per packagist quindi basta fare questo ogni volta che pubblicate che fate un push sul repository git hub la nuova versione transiterà anche su packagist senza che voi dobbiate fare nulla attenzione però che non è immediata la cosa può volerci 2-3 anche 5 minuti a secondo del momento però è abbastanza veloce come operazione quindi da questo momento in poi potete integrare il package mediante composer require e il nome del vostro package ultima cosa che è molto utile perché voi potreste dirmi sicuramente ma se io sto sviluppando il mio pacchetto e lo voglio provare devo fare per forza il push su github pubblicarlo su packagist magari non funziona già è disponibile io voglio poterlo testare in locale potete farlo e basta aggiungere nel composer json di una vostra applicazione di test quindi non quello del package ma quello di una vostra applicazione di test un repository custom quindi alla fine o non alla fine dove volete in genere alla fine aggiungete un campo repositories dove definite un repository di tipo path il cui url punta al percorso dove si trova la vostra versione di sviluppo del package quindi quando andrete a fare l'update di composer verrà trovato questo repository e anche se non è disponibile su packagist il repository verrà integrato dal vostro percorso locale normalmente se fate questa esatta configurazione è mediante un link simbolico quindi non vengono neanche copiati i file semplicemente punta alla directory del package quindi voi potete fare una modifica al package e in automatico trovate tutto aggiornato anche nell'applicazione di test quindi fin tanto che state sviluppando il package lavorate in questo modo quando avete finito e pubblicate una versione definitiva rimuovete questa sezione dal composer json e verrà tirato giù il package che si trova su packagist queste sono le informazioni di base poi ovviamente un package può essere complesso all'inverosimile ma generalmente la cosa interessante sono i package che fanno poche cose ma che le fanno molto bene anche perché se dobbiamo fare operazioni molto complesse onerose e le deleghiamo tutte a un package o è un package veramente garantito al 100% e sapete che vi potete fidare altrimenti vi state mettendo nelle mani di qualcuno che un domani dismette il package e vi lascia nei guai vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti